Mi ricordo la prima volta che sono venuto a San Marino. Era un sogno, arrivare in cima alle meraviglie di San Marino, poter osservare tutto il mondo intorno, poter osservare e vivere quel tipo di storia. Ed è bello che parte d'Italia ma non è Italia. C'è questa piccola differenza che ti fa capire la differenza tra un modo di far vivere la politica e apprendere qualche cosa per quel tipo di politica e poi arrivi in Italia e vedi l'altro tipo di politica che c'è. Perché lì c'è solidità. Qui le cose ancora non sono per niente solide. Nonostante il paese è solido, ricco di storia, ricco di fama, ricco di grandi personalità, ricco di gente che può veramente svegliare il mondo, fa svegliare il mondo. Ai politici cosa bisogna dire? Io so di essere il signor nessuno, ma siccome sono ogni tanto chiamato ad andare a votare, rimani senza la possibilità di dire per chi voto quest'anno. Perché voi pensate politici più ai vostri giochi, con chi allenarvi, con chi allacciarvi, con chi fare qualche cosa che tutto sommato non fa bene al nostro paese. Il nostro paese ha bisogno di gente che lavori per gli italiani, per l'Italia, che riprende, se non pensiamo a tante cose che sono succedenti. In Italia stanno svendendo tutto, ce ne siamo resi conto? Vai in un aeroporto, tu non trovi più Alitalia per esempio, non c'è più niente di italiano. Non c'è l'Italia. Avevamo una bellissima fabbrica di, lo sapevi? Di cioccolato? Pernigotti. Non è più italiana, è dei turchi. Avevamo la perugina, non è più degli italiani, anche se è di resiste, grazie a Dio, Ferrero. Meno male, meno male. Io la riporto un po' sul canto perché due anni fa l'avevo intervistata qui alla terrazza e lei ci aveva promesso che sarebbe venuto a cantare a San Marino e ha mantenuto la promessa. Ecco, ci promette qualcosina anche questa volta? Io non vedo l'ora di fare un concerto nella piazza maggiore, si chiama? Piazza della Libertà, lì a San Marino. Ma questo non dipende da me, dipende dal mio amico Federico, dipende da tutti coloro che organizzano. Dipende da me, l'avrei già fatto 30 anni fa.